Un rallentamento della crescita economica dopo il rimbalzo positivo post-pandemia del biennio precedente è l'estrema sintesi dell'andamento dell'economia piacentina nel 2023 contenuto nel report annuale curato dal Laboratorio di Economia Locale dell'Università Cattolica di Piacenza sotto la responsabilità scientifica del professor Paolo Rizzi e presentato al Palabanche 20 in occasione della giornata dell'economia piacentina. A livello di dinamiche sono positive, il 2023 è stato positivo, ossia di PIL più 1%, oltre i 10 miliardi ma soprattutto di occupazione, 4 mila occupati in più. Le esportazioni sono andate benissimo, molto meglio della media. Ci sono però fronti che mostrano alcune ombre, come la disoccupazione che è scesa ma non quanto in regione. In particolare la disoccupazione giovanile rimane alta, la disoccupazione femminile rimane alta rispetto all'Emilia-Romagna. E poi la dinamica delle imprese attive nel territorio, in calo da anni. Nel report di quest'anno compaiono anche temi non strettamente di economia, come quelli ambientali e quelli sociali, a partire dalla distribuzione del reddito. Gli indicatori della Caritas ci danno un aumento fortissimo negli ultimi anni di situazioni di bisogno.